ideata, brevettata e costruita in Umbria non è una cassaforte, ma trasforma la tua casa in una cassaforte ecco, dall'interno puoi scegliere la combinazione e variarla quando vuoi all'esterno sembra una normale porta, ma nel cuore ha qualcosa in più è semplice da aprire, senza alcuno sforzo, ma solo per te è tutta in acciaio, ma è rivestibile lì, che puoi scegliere in tutte le gambe di colori e qualità è semplice, sicura, inattaccabile, proprio come la stavi cercando la trovi direttamente in fabbrica, Renato Caccioli, via Piccolpasso 121, zona industriale